Tutto sarà giudicato equamente. 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 Ah, non ne vedevo da tempo. Sembra... strana. Credo che sia perché è ancora in vita. Non essere indelicato. Benvenuta a Revendreth. Anima dannata. La tua ultima speranza di redenzione. Lo smistamento è da questa parte. Darei l'occhio di qualcuno per vedere i regni in cui hai viaggiato. Fa' attenzione. Da brava anima appena arrivata dovresti sapere che questo è un luogo di tormento e penitenza. Non c'è nulla da temere. Come puoi vedere da queste pietre del peccato, la strada per la redenzione è possibile. Ognuna di esse rappresenta un'anima che è giunta in questo luogo e si è purificata dai peccati, lasciandosi alle spalle questo posto o accettando il ruolo di Ventir. Grazie a tutti. 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 Un tempo avevo potere e grandezza. questa ingiustizia deve essere corretta. Sire Denatrius non vede l'ora che ti presenti a lui. Reavendrette è determinata. Reavendrette è determinata. Fidati... Reavendrette è determinata. Ciambellano Supremo, c'è del trambusto più avanti. Ciambellano Supremo, c'è del trambusto più avanti. Sembra un combattimento. Ribelli, passate tra di loro o sopra di loro Non oseranno In nome del maestro, che succede? Questo mortale non diventerà un'altra marionetta del maestro È anche il tuo maestro traditore Liberaci immediatamente Hai i tuoi ordini, Ciambellano Sorbonne Resta con me Tu sai fare l'heroe Ma io conosco Rebendret Ero Esatto Tu vai a cercare i ragazzi E io rimetterò in sesto questa carrozza Cerca di non farti divorare Mortale, di qua Sei chiaramente qui in cerca del meglio Ricordati di me quando avrai voglia di combattere Sì! Finalmente libera! Venite miei nuovi amici Portiamo un po' di distruzione su tutto Ricordati di me Ricordati di me Divoratori Stanno rosicchiando le fondamenta del nostro regno Non ne ho mai visti così tanti Grazie a tutti Grazie. Grazie. Non voglio essere mangiato! Grazie. 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 Prima devo avere un bersaglio. Sei così... rinfrescante. La lama è lo strumento. L'abilità sta nella mano che la impugna. L'impugna. 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 Quali capi ti mandano? Questa sincità sarà la fine di tutti noi. Ho una vendetta da compiere. Spero che le nostre strade si incroceranno ancora. Cerca di non morire. Sta in guardia. Dreven e i suoi scagnozzi potrebbero essere ancora nelle vicinanze. Dreven è uno dei pochi capi rimasti di una ribellione fallita. Ci sono dei venti re dei litogeni infedeli che ritengono che il nostro sia responsabile della sincità d'Animum. Che eresia. Vieni. Procediamo a piedi. Non mi piacerebbe venire gettato di nuovo. Non vuoi un precipizio. Non dare peso alle voci sulla ribellione. Le voci sulla siccità sono fin troppo esagerate. Ti è toccata Reven Dread. Ehi. Tu, con quel brutto miso. Dirò ai ragazzi che sei a posto. Conduci la carrozza in un'altra direzione come diversivo. Mortale? Dovremmo separarci per non essere dei bersagli facili. Cerca di non morire. Cerca di non morire. Cerca di non morire. Grazie a tutti Grazie a tutti Che vai cercando? È stato un piacere Che vai cercando? 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 Ti do il benvenuto? Che vai cercando? Che vai cercando? Che vai cercando? No fai pietra Non esiste la proprietà Almeno al castello c'è un decreto che stabilisce chi può permettersela Io servo il maestro